ebbene sì amici lettori abituati a questo appuntamento di presentazione della prima pagina del risveglio popolare in edicola il giovedì ebbene sì il patriarca e san savino un grande titolo per una grande notizia settimana prossima festa patronale della città di Ivrea festa patronale di san savino e personaggio invitato d'onore il patriarca niente popo di meno che il patriarca ecumenico di costantinopoli sua santità bartolomeo primo arcivescovo di costantinopoli giovedì 4 luglio sarà in preghiera davanti all'urna del santo e sabato 6 luglio parteciperà alla processione e assisterà alla messa a questa grande notizia a questo grande evento annunciato con gioia e con riconoscenza dal vescovo edoardo raccontiamo raccontiamo nelle pagine interne abbiamo dedicato due intense pagine per raccontare innanzitutto chi è il patriarca che cosa rappresenta perché e come viene ad Ivrea avendo accolto lui un invito che tre anni fa il vescovo edoardo gli fece durante una visita a costantinopoli e raccontiamo anche della sua amicizia con la chiesa cattolica di roma i suoi rapporti con benedetto sedicesimo prima e con una lunga amicizia con papa francesco abbiamo scritto pastore di grande umanità all'interno ovviamente dei contributi importanti per farci gustare questa splendida notizia pastore di grande umanità accogliente instancabile a 84 anni tenne rapporti fraterni e ha rapporti fraterni prima con benedetto e francesco e poi qui ad Ivrea anche per la devozione per i martiri cristiani del primo millennio e tra questi appunto san savino quindi grande appuntamento grande notizia il vescovo definisce questa visita un onore per la diocesi e per la città ovviamente il giornale all'interno tante altre notizie come sempre che arrivano dal dal territorio problema di viabilità non è neanche una notizia completamente nuova ma tutto evolve a san benigno adesso c'è una proposta dei commercianti ricordiamo perché tanto abbiamo scritto anche nell'arco di questi anni circa la caritas diocesana cambio alla direzione dal diacono ricci al diacono bianco fiorenzo bianco cambia di guardia la direzione della caritas secondo lotto di restauri in avvio a Ivrea nella chiesa di santa croce ma di Ivrea scriviamo anche circa la nuova città che piano piano dovrebbe sorgere dovrebbe modificarsi abbiamo partecipato ad un importante incontro sulla mobilità sostenibile su come Ivrea affronterà questo tema per rendere la città più inclusiva ragazzi di oratorio democrazia e libertà ai tempi del web padre valle il primo dizionario cinese italiano sono alcune dei titoli di coloro che collaboratori che sovente collaborano con noi made in italy made in italy è il titolo del nostro editoriale è stato scelto paradossalmente diciamo noi per proteggere pubblicizzare il prodotto italiano è stato scelto paradossalmente lo ripetiamo una è stata scelta una espressione in inglese come se nel dizionario italiano non ci fossero sufficientemente parole per dirlo appunto nella nostra lingua italiana il patriarca è san sarino il patriarca di costantinopoli sua santità bartolomeo primo sarà ad Ivrea dal 4 al 6 di luglio per partecipare alla patronale e questa la grande notizia a questo ci prepariamo perché la festa è già la settimana prossima grazie a tutti e buona lettura grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti